Un tablet per ogni studente del primo anno del commerciale dell'Istituto Cavallotti di Città di Castello. La preside ci spiega il perché di questa consegna, mentre l'insegnante che si guida ai ragazzi ci spiega come i giovani si avvicinano così alla tecnologia. Questa possibilità è per implementare, consolidare e sviluppare delle possibilità didattiche ai ragazzi, soprattutto dell'indirizzo commerciale perché devono formarsi alle nuove tecnologie in quanto il loro futuro impegno e compito sarà proprio quello di lavorare con le nuove tecnologie oltre che con le lingue straniere e con la conoscenza delle aziende. Quindi questo è uno strumento base per cui senza pesare sulle famiglie che avrebbero dovuto acquistarlo abbiamo deciso, d'accordo col Consiglio d'Istituto, di investire una somma per poter offrire a tutti i ragazzi senza distinzione questo supporto che diventa basilare, come la penna. Cioè se non hanno la penna i ragazzi no? E questo è uno strumento che oggi è proprio come una penna, cioè non se ne può fare a meno. Siccome il corso aveva bisogno nel nostro appoggio, diciamo proprio da questo settore, abbiamo creato delle app che così i ragazzi potranno studiare soprattutto le lingue straniere unite a un progetto di international business facendolo partire dal primo anno l'alfabetizzazione proprio iniziale a livello di computer perché sono dei nativi digitali ma a volte non lo sanno così usare bene. E noi cercheremo appunto attraverso la lingua, cioè l'applicazione immediata del lavoro di poter farli usare in classe usando anche li proprio come libri di testo e soprattutto per farli lavorare a casa in modo tale che anche ragazzi con problematiche di SA e BS potranno avere l'opportunità di migliorare proprio qualitativamente il loro livello di studio.